E' eccezionale e con la tuta rossa è specializzato in diretta e dopo dopo sentiamo per andare ad affrontare una gara definita da tutti gli equipaggi, una gara molto impegnativa, una gara tosta, una gara non facile. Fortunatamente il meteo è dalla nostra parte per i piloti, per gli attenti lavori. Grazie. 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 Grazie.